Allora, prima parte fatta, seconda parte andiamo a sbustare, quindi 2D3, filmato 2D3, andiamo a vedere che cosa ci troviamo all'interno, con alcune delle carte sicuramente più utili. Il paladino oscuro, intuizione occhi rossi, la sciuberta, e non è male questo qua. Non ho ancora trovato però, cioè no, in realtà la nostra Diabester l'abbiamo già trovata, siamo già partiti talmente, talmente intrombissima che è difficile arrivare alla delusione dopo. Abbiamo già trovato la gioia. Una bella isoletta che non ci fa assolutamente schifo. Allè, allè, un'altra bella princess, una bella princess ragazzi. Voglio un Chiabberstar, un Chiabberstar. 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 Andiamo a vedere. Quanto è bello, quanto è bello sbustare, quanto è bello sentire le carte che crepitano mentre è andata ad aprirle. bella, bella, guardate anche questa versione, molto carina. ok. attenzione 7 avisteus guardate un gioco di maga nera non male non male non male occhi di serpente potere del mago diciamo che la prima parte è andata francamente un po meglio abbiamo tanto di parlare anche nella terza parte dei nostri video in cui andremo a vedere il cavaliere dell'armageddon niente niente con pochino a lei un'altra bella erba sempre più verde è un bel girso il ritorno dei signori dei draghi andiamo a vedere l'ultimo ultimo ma non ultimo ultimo ma super ultimo questa bella principessa qua la troviamo 100 volte e ci piace trovarla 100 volte abbiamo un bel mostro resuscitato che dire ragazzi queste sono le nostre i nostri ritrovati naturalmente terzo video per vedere di quello che abbiamo trovato quelle che secondo me sono state le sbustate più interessanti come sempre articolo video e tutto quanto trovate tutto in descrizione continuate a seguirci alla prossima e ciao